Ciao, eccomi qui, sono a Barcellona, mi sono un po' ripresa rispetto a quando ho girato il video precedente perché ero veramente, veramente in uno stato che non hai idea. C'era persino una persona, una ragazza che mi ha dato delle informazioni all'aeroporto che mi ha offerto qualcosa con lo zucchero, voleva regalarmi della Nutella o qualcosa del genere per farmi riprendere. Ebbene, ti racconto qualcosina di quello che è avvenuto in questi giorni, non ti dirò tutto perché non me lo ricordo neanche perché ci sono state veramente talmente tanti segnali, tra cui l'ultimo, e stavo facendo un lavoro sull'arrendersi completamente. E' una cosa che suggerisco sempre, quella di arrendersi a ciò che è bene per te, perché tu non lo sai e neanche io lo so che cosa è bene per me, tranne il fatto di arrendersi. Questo so che è bene, perché noi non sappiamo mai ciò che corrisponde al nostro bene supremo e quali sono i piani dell'universo. Quindi stavo facendo proprio un lavoro per arrendermi completamente, sempre di più, sempre di più. E appena arrivata all'aeroporto ho sentito il forte impulso di entrare in una libreria. Sono entrata in questa libreria e ho chiesto alle mie guide, libro o messaggio? Ossia, devo comprare un libro, c'è un libro per me oppure c'è un messaggio per me da qualche parte? E c'era un messaggio. Allora mi sono fatta guidare su dove fosse questo messaggio. Ho trovato un libro, un romanzo che non conoscevo e di cui non ricordo neanche il nome. Ho aperto il libro a caso e c'era una frase molto particolare. Arrendersi all'inevitabile. Piccola connessione, vero? E questo è solo una piccola piccola parte delle magie che sono arrivate in questi giorni. Guarda, non me ne ricordo neanche tutte perché sono state veramente tantissime. Questa mattina mi è arrivato, come forse ti ho accennato nell'altro video, non me lo ricordo perché tanto sai che non li riguardo mai i video che faccio. Mi è arrivato un metodo per aiutarti a connetterti con te stesso, ad essere nel presente nel giro di un secondo. E' una cosa bomba, facilissimo ma veramente facile ed è veramente potentissimo. L'ho usato su di me e ho detto funziona tantissimo e poi l'ho fatto usare ad altre persone. Per il momento solo due. Ed ha funzionato molto molto bene. Quindi l'ho già inserito nel libro perché questa era l'informazione che dovevo inserirlo proprio nel libro che sto scrivendo. E vediamo che cosa verrà fuori da questo perché adesso è in sperimentazione. Sai che io sperimento le cose prima di dartele, a meno che non arrivino sul momento e gli esseri di luce mi dicano questa cosa è bene per questa persona. E allora lì ovviamente mi arrendo all'inevitabile. Bene, poi è arrivato qualcosa di veramente magico inerente alle mie guide. Come sai una delle mie guide principali è l'arcangelo Michele e l'altra è Ganesh. E sono arrivati entrambi in fusione facendomi sentire che erano un'unica energia. E lì io non ho più capito niente, sono andata completamente in confusione. E questa connessione che c'è stata è stata veramente così potente che la persona che era con me mi ha detto hai cambiato completamente viso, completamente non solo espressione ma proprio viso e non ti si riconosceva più praticamente. Ed è stato veramente molto molto forte. Guarda ti dico raccontartelo non rende assolutamente né l'idea né giustizia di quello che è accaduto. Ti posso solo trasmettere la mia emozione e il mio entusiasmo per tutto quello che sta accadendo a tanti livelli. Quindi i segnali sono veramente buoni. Stiamo a vedere che cosa accadrà. Intanto continua a seguirmi e faremo magari delle belle cose insieme. Ok? A presto presto. Un abbraccio forte. E apriti anche tu all'inevitabile che ti porta sempre verso la tua strada migliore. Ciao! Ciao!